Allora, Guccioni, i tempi stringono, qual è l'umor locale in quel contesto così creato, Colli al Metauro? L'umor intanto che ovviamente sta nascendo un interesse su quello che accadrà da qui a giugno, probabilmente l'altra elezione sarà l'11 giugno, almeno le notizie di stampa sono queste. Io sono convinto che questa esperienza possa nascere una lista, ripeto, veramente civica, veramente interessata a quelli che sono i destini del Comune di Colli al Metauro, con un capolista nato all'interno tra queste persone che possa ambire per amministrare il Comune di Colli al Metauro. Lei farà parte di questa lista, si candiderà per questa tornata elettorale? No, ovviamente questa è una lista al quale io non parteciperò, nel senso che è una lista che deve essere il più nuova possibile, che coinvolgendo persone anche, molte di queste anche fuori dall'amministrazione, possono dare anche un contributo di freschezza che tutto sommato serve all'amministrazione. Ecco, ultimamente già ci sono state delle scese in campo, 5 Stelle che esprimerà una sua lista, anche l'ex sindaco Aguzzi ha messo una sua bandierina su quel territorio. Come vedete da ex amministratori queste già prese in posizione? Beh, 5 Stelle sì, io vedo che stanno facendo incontri, riunioni. La cosa un po' diversa è questa, mi pare, di Stefano Aguzzi, che ha fatto un arremendo un po' cincinnato, che era il dittatore romano del IV secolo, che era in campagna, faceva il contadino, insomma, e che secondo Tito Livio abbandonò l'arratro perché fu chiamato per difendere Roma. Pensare che una persona, insomma, che possa arrivare a Corri del Metauro dicendo io sono il salvatore, tra l'altro visto che ha tappezzato anche tutto il comune di manifesti, insomma, con la foto sua, sono il salvatore che con la mia esperienza, insomma, possa portare beneficio alla popolazione, liberare, non si capisce da chi, insomma, c'era i barbari, ma se i barbari non ci sono, mi sembra che sia un po' sbagliato, perché fa in modo, evita che nasca quello che serve, insomma, una consapevolezza piena da parte delle persone. Quali sono i temi, se si possono riassumere rapidamente, sui quali ci si giocherà la propria elezione, secondo lei? La questione che va affrontata subito dalla messa di sicurezza delle scuole. Grazie. 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 Grazie.